Schede elettorale, ombrello alla mano e in fila davanti ai seggi fin dalle prime ore del mattino. Le persone erano davanti ai cancelli dalle 6.30 di questa mattina, ha detto un presidente di seggio. La pioggia che si è abbattuta fin dalle prime ore sulla costa non ha fermato le tante persone che hanno affollato i seggi elettorali. Le operazioni di voto procedono spedite, non c'è stato nessun momento di tregua. Io penso che gli italiani e soprattutto i molisani vogliono votare, vogliono far sentire comunque la loro opinione. Abbiamo avuto una buona affluenza, adesso è un momento di pausa per chi sta uscendo, per chi sta arrivando, ma confidiamo in un buon numero. Per adesso siamo sui 2.50, comunque è un seggio non tanto grande, siamo al numero 24, siamo all'incirca su 1.900 persone e abbiamo già fatto 250 voti.